Audio Jungle Audio Jungle Nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma, ben trovati. In apertura parliamo ancora una volta di farmaci di fascia C e dell'ipotesi che questi possono essere venduti nei supermercati. Preoccupata Federpharma è chiaramente il suo presidente Anna Rosa Racca. Dare ai supermercati la possibilità di vendere farmaci con ricetta medica significa trasformare questo prodotto destinato alla cura di patologie importanti in un bene di consumo. Potrebbe aumentare drasticamente l'abuso dei farmaci. Verrebbe meno l'attività di farmacovigilanza garantita oggi dalle autorità sanitarie grazie alla rete delle farmacie. Non si potrebbe più avere la certezza che un farmaco ritenuto a rischio possa essere ritirato dalla vendita entro poche ore come avviene oggi grazie all'interconnessione immediata fra istituzioni e farmacie. La presidente di Federpharma Anna Rosa Racca ha mostrato anche grande preoccupazione per il destino di quelle piccole farmacie dislocate nelle aree più disagiate del paese che potrebbero essere a rischio di chiusura. Dalle preoccupazioni delle farmacie alle mobilitazioni delle parafarmacie che scendono in campo per tutelare il proprio futuro è quello di migliaia di professionisti danneggiati dalle politiche di questo governo. Le dichiarazioni del presidente Gullotta con un presidio davanti a Palazzo Montecitorio nei giorni 8, 9 e 10 settembre prossimi la Federazione Nazionale Parafarmacie Italiana sarà presente simbolicamente alla ripresa dei lavori del DDL Concorrenza la cui attuale versione rafforza unicamente le posizioni dominanti di alcune delle più influenti lobby italiane. Quanto afferma il presidente della Federazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane Davide Gullotta. E sempre in tema di DDL Concorrenza è intervenuto anche il presidente di Federfarma Servizi Antonello Mirone secondo il quale la perdita di indipendenza economica e professionale da parte di chi dispensa farmaci rappresenta la più pericolosa minaccia che la farmacia si sia mai trovata ad affrontare anche qualora nel DDL Concorrenza si riescano a porre attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti paletti alla partecipazione dei capitali. La scelta da fare secondo Mirone è fin troppo ovvia raccogliere e convogliare le energie all'interno del sistema farmacia senza disperderle altrove dove i grandi capitali sono pronti a depauperare il ruolo sociale del farmacista svilendolo a mero commerciante. A questo delicato quanto complesso tema l'associazione ha voluto dedicare la sua convention annuale organizzata in collaborazione con Federfarmaco che si terrà quest'anno nei giorni 15 e 17 ottobre a Cagliari. All'arma e scabbia a Roma così il Vaticano produce un farmaco ad hoc. Si tratta di un medicinale contenente benzilbenzoato al 20% per i professionisti del settore e uno dei più efficaci trattamenti contro la scabbia. La preparazione è stata prodotta nei laboratori della farmacia vaticana su richiesta dell'elemosineria apostolica che poi la distribuisce periodicamente nei vari centri di accoglienza di Roma. Durante i mesi estivi la Croce Rossa ha più volte segnalato l'emergenza scabbia nella capitale. Proprio per questo motivo l'elemosineria vaticana ha fatto produrre un farmaco ad hoc da distribuire in tutti i centri di accoglienza della città. Sarà il diabete il primo obiettivo di Google Life Science, la neonata divisione del colosso informatico dedicata alla salute. L'azienda ha annunciato che collaborerà con la multinazionale francese Sanofi per sviluppare dispositivi in grado di migliorare il monitoraggio e la gestione del livello di glucosio dei pazienti. La collaborazione, spiega il comunicato congiunto, unirà le competenze di Sanofi nel trattamento e nei dispositivi per la malattia con l'esperienza di Google nell'analisi dei dati, nella miniaturizzazione dei dispositivi e nel design di chip a basso consumo. Bene, tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana.